Si può dare di più perché dentro di noi Si può dare di più senza essere eroi Come pare non so, non lo sai neanche tu Ma dicendo se può dare di più Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Ornella si sta presentando una bella giornata sportiva e non solo Siamo in partenza, siamo già in viaggio per una giornata di sport, di pallavolo soprattutto Andiamo a Milano a vedere questa partita di Superlega Una partita dove oltre che la partita in sé riusciamo anche a vedere gli allenamenti delle due squadre Infatti in mattinata l'allenamento di Milano e di Perugia Saremo ospiti, probabilmente riusciremo anche a scambiare qualche parola con qualche giocatore e magari i due allenatori Ricordo che i due allenatori delle due squadre sono due personaggi direi top di più Sono Andrea Gianni per Milano e Bernardi per Perugia Bernardi ricordo che è un giocatore del secolo Quindi insomma direi che loro in panchina hanno sicuramente tanto da dire e tanto da anche comunicare con noi Quindi speriamo che sia una giornata bella È un'opportunità, un'opportunità per i nostri ragazzi di vedere veramente la pallavolo ad alto livello Purtroppo nelle nostre zone ancora questo non possiamo farlo Quindi quando ci sono le opportunità come questa organizzata dalla diocesi Partiamo a grandi numeri per trascorrere una giornata tutti insieme Intanto salutiamo i responsabili dell'ufficio sport che è Don Paolo Zanandrei Spero che lo avremo ai nostri microfoni Salutiamo, diverse sono le società Ornella che ci sono Da Casarza, mi sembra Sestri, Rapallo, San Salvatore, Carasco, Santa Margherita Insomma un pochino come dicevo prima una buona rappresentanza del Tigulio Alessandro anche il villaggio è presente Tra l'altro abbiamo due pullman e un pulmino Circa 120 persone, 125 Sì è stata una buona occasione quella di presentarsi oggi a venire a vedere questa partita Che è molto interessante sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista umano Perché ci sono dei allenatori che sanno portare la squadra ai massimi livelli Tenendo ben presente anche le capacità dei singoli giocatori e degli uomini stessi Per noi è un ottimo esempio di come si fa la palavolo e soprattutto per imparare qualcosa Certo, anche perché è veramente palavolo a massimo livello Certo, è il massimo livello Perugia ha nella sua squadra dei giocatori che sono a livello mondiale Forse tra i migliori giocatori del mondo Milano quest'anno ha fatto delle cose veramente molto molto pregevoli Portandosi al quarto posto insieme con Modena E sviluppando una palavolo nuova e abbastanza vincente Molto fisica però bella anche spettacolare Bene, Ornella da ex azzurra che effetto ti fa Siamo andare a fare una visita a questi palazzetti, a queste squadre Tra l'altro Ornella ci aiuterà un po' in questa giornata, in questo reportage della giornata Ma per me è sempre un'emozione E quando si presentano queste occasioni io parto, io vado Perché comunque è l'occasione per vedere della bella pallavolo Per me, dico la verità, è l'occasione anche di rivedere tanti amici Tanti amici e anche queste squadre ne ho Uno è il direttore generale proprio di Perugia Sono persone che sono partite tanti anni fa come me dalla nostra pallavolo E tutti quanti abbiamo fatto dei percorsi importanti Ci metto anch'io nella costruzione del progetto Carasco Perché no, non voglio essere presuntuosa Però qualcosa penso che stia crescendo nella nostra zona Chiaramente è sempre un'emozione Sempre un'emozione entrare in un palazzetto pieno di gente Gente gioiosa che gioca a pallavolo e che va a vedere la pallavolo Grazie a tutti Grazie a tutti Siamo entrati al palazzetto e ancora mattina stanno facendo gli allenamenti Il riscaldamento, vediamo alle spalle il Perugia Facciamo gli onori di casa, abbiamo il presidente del Milano E il direttore generale del Vole Perugia Presidente, oggi ospitate il Perugio prima della classe Intanto è un grandissimo piacere essere qua Ed essere arrivati al campionato che abbiamo fatto Noi abbiamo costruito con i mezzi che avevamo una squadra Abbiamo puntato molto all'aspetto umano Cioè l'allenatore che è la cosa che conta E avere avuto Giangio con noi, Andrea Gianni È stata una cosa straordinaria Abbiamo una squadra che è la seconda più giovane del campionato Siamo tra il quarto e il quinto posto E mi auguro di essere anche stasera Dopo questa partita E sono onorato di avere questo incontro con Perugia Che sono al di là di essere la prima squadra Campioni d'Italia, meravigliosi Sono anche degli amici da sempre E quindi questo è ancora di più il valore del nostro sport Ecco, molto bello anche questo incontro Massima sportività a qualche ora della partita Perugia cosa dice? Uno squadrone? Beh, noi sarei un bugiardo se non dicessi Che abbiamo fatto fino adesso una bella stagione Anche contando che dopo l'anno scorso Abbiamo vinto tutto Abbiamo cambiato più del 60% della squadra Quindi va a merito dei ragazzi Dello staff tecnico Hanno fatto un lavoro eccellente Abbiamo vinto la regular season Stasera giochiamo contro una gran bella squadra Che tra l'altro si è rinforzata Prendendo un gran bel giocatore come Cebuli Quindi segno che spingeranno molto Penso che sia una partita godibilissima da vedere Vinchi il migliore Devo dire che Milano è sempre una squadra fastidiosa In qualsiasi ambito Nel senso che ha giocatori importanti Il Presidente ha detto giovani Ma sono anche molto bravi Ecco voi siete stati giocatori importanti da giovani Come si vive il pre-partita? Adesso loro stanno facendo allenamento Cosa stanno facendo secondo voi? Stanno ripassando schemi? Premesso che lui è stato un giocatore molto importante E io molto ma molto ma molto meno Io per quanto mi riguarda devo dire che io sono stato un giocatore in un'altra epoca Quando tutti i compagni di squadra avevano lo stesso colore della maglia Adesso ce n'è uno che ha una maglia diversa che il libero Ruolo che io non mi immaginavo ci fosse Perché dico questo? Perché io vivo praticamente buona parte del mio tempo negli Stati Uniti E sono rientrato qualche anno fa nel mondo della Palavolo Tirato per i cappelli ma con molto piacere e con molta soddisfazione Da un amico che adesso è Presidente della Federazione Italiana Per riportare Milano in Serie A Noi ci abbiamo provato Lo stiamo facendo Speriamo che sia pronto anche Milano Perché la squadra c'è Noi siamo arrivati in Serie A Non mancava solo Milano Nel senso che mancava il padrido Sembrerebbe che quel prossimo anno Anzi direi praticamente certo che quel prossimo anno ci sarà Al giugno ci sarà la WNL Quindi sarà una cosa magnifica In merito alla tua domanda Dico che questi sono degli riscaldamenti mattutini Per prendere un po' anche piede nel campo Soprattutto la squadra che gioca fuori casa Che gioca fuori casa in questo caso Perugia Ecco direi un aspetto finale La cosa importante di queste cose è che Mi veniva in mente prima un'immagine Tu ci hai chiesto se potevamo fare questa cosa insieme La fanno anche i pugili E di solito i pugili la fanno così E noi invece E noi invece la facciamo Dandosi una mano E quindi adesso lascio a te la parola Ma questo è lo spirito del nostro sport Grazie Molto bello Molto bello questo Credo che Quando si parla di sport Di famiglia Di svago Di divertimento Di intrattenimento Ecco questo deve essere un pochino lo spirito Poi in campo Bisogna Impegnarsi per vincere E darsene di santa ragione Però sempre nella massima correttezza A parte che nella parola c'è la rete Anche qua lo ha tutto sommato Aiuta Sarà retorica Ma il nostro è veramente uno sport È un'isola felice Stasera ci saranno ragazzini Famiglie In tutto un campionato Non c'è stato un episodio Di violenza Di questo siamo molto orgogliosi Poi quest'anno la Superleague è stata di un livello tecnico altissimo E quindi siamo contenti anche di offrire uno spettacolo di questo livello Prima dicevi come si vive Io adesso non è che voglia fare tra giocatore e dirigente il 43esimo campionato di A1 Per me non è cambiato niente Forfalla è nello stomaco Fino a quando non finisce la partita Quindi da una parte è anche molto bello E molto stressante Mi sono venuti i capelli bianchi Una volta ero biondo Ma queste partite mi hanno fatto diventare bianco Comunque a parte gli scherzi Veramente sarà uno spettacolo E spero che la gente si divertirà Tra l'altro oggi avete più di 120 persone Che arrivano dalla diocese di Chiavri E all'ufficio sport della diocese Capitanato da Don Paolo Che ci ha portato qua Insieme all'Ornella Marchese Che credo che è conosciata bene tutte e due Come un'amica Fammi spendere una parola Che l'ho detto già a lei Quindi il lavoro che fa in quel territorio Ornella Marchese Ma non perché sia un'amica È straordinario Perché la passione Veramente la pallavolo vive in Italia Per persone come Ornella Veramente fanno un lavoro straordinario Sul territorio E se Questo è un messaggio anche rivolto ai genitori Se avete un figlio in età Per portare la pallavolo Se lo portate lì Vi tornerà migliore come pallavolista Ma migliore come ragazza Sì Ornella In effetti se lo merita Noi nel nostro comprensorio Non so se conoscete Le zone Da Insomma Santa Margherita Ligure Rapallo Chiaveri Lavagna Stessa Anche l'entroterra Serra Sestri Casale Insomma Forse non ci sarà mai stata la Serie A Ma c'è una tradizione di pallavolo Che va nella storia Certamente Io mi ricordo Quando giocavo ancora C'era un torneo a Santa Margherita Che si organizzavano tutti gli anni E poi ad Alassio Erano tornei magnifici In cui In cui tu Non solo passavi un po' di tempo Con i tuoi compagni E ne eri giocando Ma soprattutto Ti godevi anche le meraviglie Di quel posto Che sono straordinari Ora Sveciate di Fegino Candia E compagnia Grandi giocatori di quell'epoca Che si chiamava Borsalino Genova Se non sbaglio Posso interrompere Ma visto che siamo amici Quindi siamo Siamo in famiglia Siamo in famiglia Bravissimo Oggi viene Con noi Viene sempre La Locandia La Locandia È un antico giocatore nazionale Che lui ha citato in questo momento Che è presidente Dell'Old Star Milano Perché noi Oggi avremo qui ancora Tutti i vecchi giocatori Che hanno giocato in Serie A Della mia epoca E anche una precedente Secondo me In cui Abbiamo creato Con la quale abbiamo creato Un insieme Di continuità Tra l'antica generazione Non dico vecchia Perché il vecchio È una vecchia sedia La butti via Una sedia antica Prende valore Questi antichi giocatori Assumono il valore Di venire a vedere Le nostre partite Di essere qua E essere un esempio Ancora per i giovani Eccomi Fate Maturare il pensiero Perché non si potrebbe fare Un amichevole Dalle nostre parti Senza dubbio È vero o no I posti sono belli Meravigliosi Sono meravigliosi E soprattutto se lo meriterebbe Anche Ornella Per il lavoro straordinario Che sta facendo sul territorio Basti pensare che oggi Ha portato tre pullman Per venire fin qua Pensa se venissimo là Che cosa riempie Assolutamente È la diocesi Ma lei è un pilastro diocesano Ornella Visto che abbiamo parlato anche di te Ti facciamo intervenire Ma quando vi siete conosciuti Con questi signori? Sei indiscreto comunque Quando vi siete conosciuti Un po' di tempo fa Ci siamo conosciuti Sportivamente parlando Stiamo parlando di campionesi Conosco sicuramente meglio La Betti Bigiarini Nonché moglie di Stefano La conosco da tantissimi anni Ma poi so la passione Ho avuto anche il piacere Di mangiare il pesto a casa Proprio con la vista sul mare Quindi sono un amico privilegiato Ornella allora Abbiamo già concordato Un amichevole dalle nostre parti Bisogna stabilire dove e quando Molto disponibile Allora in bocca al lupo per la partita Sia a Milano che a Perugia E anche per il campionato Perché ormai siamo verso la fine Si tirano le somme Si tirano le somme Ma questa partita finale Determinerà quarto o quinto posto E poi ci giocheremo ancora I playoff Loro sono da primi Noi speriamo di essere da quarti O massimo da quinti E quindi potrebbe essere ancora Che purtroppo per me Ci rincontreremo Se dovessimo per caso andare avanti Perugia cosa risponde? Magari perché vuol dire Che noi passiamo i quarti Che quindi arriviamo E poi dopo Vinca il migliore Se ci arriviamo Io vorrei correggere Il mio amico Cisco Perché dice Vinca il migliore Una volta tanto Mi auguro Che vinca il peggiore Siete pronti alla partita? Sì, siamo pronti È bello tornare qua A Palleghiamo Mai Dopo due anni trascorsi qui E nulla Sarà una grandissima partita Anche io ho fatto solo un anno qua Due anni fa E sarà una bella partita Con tante gente E sarà un bello spettacolo Secondo me State facendo un bel campionato? Sì, abbiamo una squadra fortissima E poi abbiamo finito primi Nel campionato Adesso inizio il pre-off Tra poco E sarà un'altra stagione Diciamo Sì, noi siamo matematicamente primi Però comunque Vincere aiuta a vincere E quindi giocheremo questa partita Di stasera Al massimo Per portare a casa Tre punti Siete primi nella regola Abbiamo giocato anche in allenamento Con dei giocatori impressionanti E dopo Siamo primi Anche noi Perché siamo nella squadra Allora È una bellissima stagione per noi A Perugia Vi trovate bene? Sì, ci troviamo bene Veramente Molto bene Sì È veramente È veramente un'esperienza emozionante Ed è uno spettacolo Vedere comunque Giocatori di questo calibro Di questo livello Allenatori comunque Dallo stile di Bernardi Di Gianni Comunque generazione dei fenomeni Veramente Bellissimo Ecco Voi Palavolo Da quanti anni Questa società Porta avanti L'attività? Allora Io che gioco a Palavolo Sono ben 30 anni E la Tiguglio C'è da tantissimo Ancora prima Ed è veramente bello Anche per i giovani Perché comunque Noi siamo ad esempio Nella nostra squadra Un mix di giocatrici grandi Palavolisticamente parlando Associate a ragazze più giovani E speriamo di continuare Di dare una mano A queste ragazze più giovani A mantenere questa passione Per questo sport meraviglioso Cosa ti piace di queste due squadre? Che ti piace come giocatore? Onestamente Sono più legata Alla squadra di Perugia Perché conosco più i giocatori Ad esempio Posso fare dei nomi Come Colaci Che è un libero fortissimo Appunto della Nazionale Atanasievic Podraska Lindececo Uno dei migliori pareggiatori Al mondo Io mi ispiro Essenzialmente a Colaci Perché essendo un libero Io sono libero Della prima divisione Di Santa Veramente Lo vedo come se fosse Un idolo per me Quindi sì Sono molto felice Di essere qua oggi È la prima volta per te Vedere una squadra? No Sono andata a diverse partite Di Superlega Ho visto anche l'anno scorso La Nazionale Italiana A Torino Era la semifinale Mi sembra Però ogni volta È un'emozione unica Per me E invece ti chiami Alejandra E al Tigulio Sportim Cosa fai? Libero Libero Giochi e alleni anche i ragazzini? No No Gioca Bene allora E anche per te Hai qualche Giocatore particolare? Giocatore che ti piace Che così Ho qualche schema Sia di Perugia Perché è veramente una passione E chi lo fa deve continuare Perché io sono 30 anni che gioco E spero di poter giocare ancora Almeno Almeno 5 o 6 Dai mettiamola così Stiamo conoscendo alcuni rappresentanti Delle società Del nostro comprensorio Che sono oggi con noi a Milano Qua abbiamo il VBC Rapallo Abbiamo una dirigente Una dirigente È una bella giornata Ania e Sonia Allora Gaia e Sonia Ania e Sonia Una bella giornata Siamo qui E speriamo che vada tutto bene Divertirci tutti insieme E come va la pallavolo a Rapallo? Speriamo benissimo Molto bene Il campionato sta procedendo molto bene Per ora siamo Incrociamo le dita Incrociamo le dita Salutiamo Eros Guy Ciao Eros Ci manchi tanto Basta Milano Ecco lì Qua abbiamo una famiglia invece sportiva Il papà che è Salvatore Salvatore e Elena Allena Santa Margherita La Serie C E aiuto anche il VBC Rapallo Che collaboriamo insieme Con le giovani E invece la mamma? Io sono Sara E ho un passato Anche io Da pallavolista Anche se non si direbbe Però Sono sua moglie Quindi Abbiamo pensato Di fare questa gita fuori porta In famiglia Anche per far vedere un po' Alla piccolina Alla pallavolo Siamo fin da subito E come si chiama questa bella bimba? Maia 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 Ah che nome bellissimo Senti un po' Ma ti piace la pallavolo? Sì Insomma Forza Quanti anni hai? Cinque Cinque Ma giochi già? No No Finora no A casa A casa Senti mi sembra anche bello Che lo sport unisce In questo caso Voi la famiglia Certo Certo Meno male Meno male Anche perché comunque Lei giocava a pallavolo Io giocavo a pallavolo In un contesto familiare Così È una bella esperienza Poi vivendola qui Con tante società diverse È stata organizzata Veramente È una cosa fatta bene Che coinvolge tutti È una bella giornata È una bella giornata Vedendo poi giocatori così importanti Allenarsi alle nostre spalle Fa un certo effetto Assolutamente Perché poi Dalle nostre parti Non vediamo spesso Queste partite No Cosa vi aspettate? Siete già venuti A una partita di Serie A? No 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 Non siamo venuti No 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 È la prima volta E poi vedere Giocatori Cioè anzi Allenatori Perché come Gianni E Bernardi Che comunque Ai nostri Quando eravamo adolescenti Noi Erano i nostri campioni I nostri isoli Quindi Diciamo Poi vabbè Niente Siamo contenti E speriamo che sia Una bella partita Ma non abbiamo dubbi E boh Perché ti fiamo Perché ti fiamo Eh? Non lo so Maia fai così Papà e la mamma Giocano a pallavolo Tu magari fai il basket Chissà Chissà Ma Ma Chi lo sa Chi lo sa Chi lo sa Bene Allora buona giornata Grazie mille E insomma Continuate Rappallo e Santa Ci salutiamo Ciao Domenica mattina Domenica mattina Per pre-partita Sì è un pre-gara Quindi più che altro Si È una condizione più fisica E ci tocca la palla Ma niente di particolare Poi Diciamo che è l'inizio di una giornata E ci si prepara la partita Quindi è un qualcosa che nasce Della disciplina Dall'allenamento Per poi arrivare Ben preparati Al pomeriggio Per la partita Noi siamo un gruppo di chiaveri Ci sono tanti giovani Cosa diciamo ai giovani oggi Che stanno giocando a pallavolo? Ma al di là del volley L'importante è fra sport La cosa più importante Ripeto sempre Che chi fa sport Si deve divertire Al di là del risultato È una conseguenza Del divertimento E chiaramente anche del lavoro Però uno si deve divertire Perché se Si fa uno sport E non si diverte È meglio fare dell'altro Quindi La parte ludica è importante Tu quando hai cominciato A giocare al pallavolo? Avevo 11 11-12 Ma facevo dell'altro prima Dell'altro sport E ti continua a divertire Anche con un ruolo Adesso importante Come allenatore? Ma al di là del ruolo Adesso sono alla soglia di 49 Ma lo faccio perché mi piace Veramente Mi piace stare in palestra Prima da giocatore Oggi da allenatore Ma non è il ruolo È la passione che si ha Credo che sia la cosa più importante Poi ci sono altre cose Però la passione Non deve mai mancare Hai aiutato a essere stato giocatore prima? Fare allenatore? Anche Nel senso che Come esperienze Però allenare È proprio un modo di vedere Lo sport diverso Perché quando giocavo Ero io lì dentro Che gestivo la palla Oggi La palla non la posso gestire E quindi Il mio strumento Non è la palla Ma la comunicazione E Ci vuole tanta esperienza Bisogna studiare veramente tanto Però È un ruolo diverso Affascinante Finita la partita Una bellissima partita Vinta 3-2 Al tie-break Da Milano Ornella Di meglio Non potevamo vedere Sì in effetti Ci siamo visti Un bel 3-2 Erano due squadre Con dei obiettivi diversi Perugia Chiaramente Già Primo In classifica E invece Milano Che si giocava ancora Al quarto posto Per i playoff Direi che ci sta tutto Perugia Non ha mollato niente Milano però Ci ha creduto di più Direi che abbiamo visto Delle cose Stratosferiche Penso che sia stata Una giornata Stancante Però dai Veramente bella Ritornando alla partita Cosa ti porti Come tattica Secondo me Dove è stata Secondo te La chiave Della partita Io mi porto Intanto mi porto Dietro questo Che vedi fare Delle cose Stratosferiche Con una naturalezza Incredibile Che le rendono Quasi semplici Per loro Sembra tutto semplice Io guardo Questi gesti tecnici Questi salti Che li fanno Con un Veramente In maniera Molto Naturale E semplice Non è così Perché dietro c'è lavoro Dietro c'è tecnica Dietro c'è fisico Eccetera Quindi io mi porto Sempre Dietro questo Vedo volentieri Le partite Direttamente Proprio per questo Se devo vedermi La partita bene Me la guardo meglio Sul divano Perché mi fanno Vedere anche Replay Quindi mi godo Di più Diciamo Le azioni Eccetera Però L'ambiente E questi gesti Sicuramente Sono Elevati Però sarebbe Importante Chiedere un pochino A loro Sei divertita Sì sì Tu No è andato Molto bene Torno a casa Senza timpani Però è andato Molto bene C'è stato molto rumore Molto tifo Sì sì Poi comunque Rispetto anche A uno stadio Di calcio È Molto più Concentrato Quindi Te lo godi Anche di più E tu come ti chiami? Io mi chiamo Damiano Damiano Come è andata? Ah bene È stata una bella partita Ho urlato molto Per chi è tifato? Milano Milano C'evo tutti a fianco Che tifavo in Perugia E quando facevo appunto Milano Gli urlavo contro Sei divertita Hai visto la bellissima Palavolo Sì sì è stato bellissimo Ornella Per finire Ho visto i due allenatori Sia Gianni da una parte E Bernardi dall'altra Di una tranquillità incredibile Anche nei momenti Proprio Siamo punto a punto Sono due persone Completamente diverse Anche in panchina Bernardi sempre molto serioso Gianni col cuore anche in panchina Si vede quello che trasmette Cioè già il vedere un Gianni Con le maniche di camicia Con la cravatta Che fa il riscaldamento Con i suoi atleti Per me è una grande cosa È il cuore e la passione Anche Bernardi Quando stava perdendo Il time break Ha chiesto due time out Non ha detto una parola Solo per rompere un po' il gioco Sì per rompere il gioco Ma anche perché comunque Non è che Perugia Ha lasciato la partita Anzi Una squadra così Deve vincere sempre O comunque deve provare Sempre a giocare Ci hanno mollato un po' alla fine Quindi magari Non era tanto contento Per la giornata Tutti insieme L'idea di venire Insomma L'organizzazione Insieme a Don Paolo Eccetera Come cosa dici Ma direi che è stata L'ennesima conferma Che se uniamo le forze Si possono veramente Organizzare delle belle cose Delle belle cose per noi E soprattutto Delle belle cose per i ragazzi Per le famiglie Che anche in questa occasione Ci hanno seguiti in tanti Quindi insomma Una bella cosa Siamo già dati a Milano Siamo dati a Novara Adesso stiamo programmando Una partita top femminile Probabilmente Novara Proprio per questione di comodità Andremo a Se riusciamo a Novara Vedere una partita a scudetto Quindi dai Bene Tutto bene Allora Salutiamo Don Paolo Che è l'organizzatore Perché O meglio L'ideatore Dall'ufficio sport Della Diocesi Don Paolo Sei contento di questa giornata Assolutamente Sì È stata una bella iniziativa Intanto ringraziamo Tutte le società Che ci hanno dato una mano A organizzarla Perché da soli Non potremmo farcela Cioè Possiamo avere anche una bella idea Ma le società fanno rete E così tutti insieme Diventa poi un evento Condiviso con le società Sono contento Soprattutto perché Regaliamo a questi ragazzi Una giornata di sport Di vedere delle squadre Di alto livello Che magari nel nostro territorio In questo momento Non ci sono Anche se in passato L'abbiamo avuto E poi possono stare Anche un po' Passare una giornata Un po' insieme Fare un po' Come dire Gruppo Comunità Anche con le altre squadre Che magari sono abituati Più a giocare contro Invece che magari Condividere qualcosa insieme Anche perché Possiamo dirlo Che la Chiesa Non è contro lo sport Ma assolutamente no Anzi La Chiesa riconosce Il valore educativo Che ha lo sport Nella forma ludica A quei valori Che il Vangelo professa E che nello sport Vengono applicati Certo Sta anche a noi Come li passiamo E come li insegniamo Lo sport da solo Non passa il valore Ma ce li ha E noi dobbiamo farli emergere È stato anche motivo Di incontro Tra altre squadre Tra altre società E volevo ringraziare Falo tu Due genitori di Carasco Stefano e Maurizio Che insomma Hanno fatto il cameraman E l'assistente Perciò è stato anche motivo Di conoscenze oggi Grazie Maurizio Grazie Stefano È stata Penso anche per voi Una giornata interessante Giusto Un po' stressato Maurizio all'inizio Con quella Gesù lì in mano Ma poi dopo Direi che è andato Via bene Cosa dici Promossi? Sì sì Promossi proprio alla grande Sì Andrea Gianni Che l'abbiamo visto Nell'intervista Ringraziamo Andrea Gianni Che anche quest'anno Anche l'anno scorso È stato disponibile Ma quest'anno Ci ha dato il bis E di nuovo abbiamo avuto Un momento insieme a lui Ha potuto dire qualche parola A questi ragazzi È per noi importante Che un testimonial come lui Dica quello che magari Noi lo diciamo Un po' nell'ordinario Nel quotidiano Ma detto da Gianni Magari attacca di più Sicuramente Abbiamo detto tutto Paolo Logicamente l'ufficio Si sta muovendo Non solo le partite Di pallavolo Di Serie A Ma bisogna andare A qualche partita Di basket Di calcio Vediamo Vogliamo far conoscere In maniera diversa Anche lo sport Sì Tutto lo sport Ci tengo a dire Che l'ufficio È veramente per tutto lo sport Per tutti gli sport E siamo come dire Disponibilissimi A voler organizzare Con tutti gli sport E insieme agli altri sport Non separati E certo Devo dire che Con la polavolo È più facile Sarà un po' Perché ho delle conoscenze Perché io vengo Da quel mondo E quindi è più facile Però è il nostro desiderio Il nostro obiettivo È quello che è sempre di più Allargare L'incontro Tra gli sport Perché ogni sport Ha la sua disciplina Il suo valore Che va comunicato L'uno con l'altro Oggi sono stati messi insieme Due pulmi e mezzo Perché uno più piccolo Un bel numero Allora salutiamo anche le società Che mi ricordo Guardiamo di non dimenticarci Partiamo dalla parte di Casarza Sessi Levante Lavagna Chiaveri Carasco Cogorno Con il villaggio Abbiamo visto Le maglie del CSI Rapallo Santa Santa Margherita Ecco Direi Almeno Una rappresentanza Di tutta la diocese Facciamolo in termini ecclesiastici Tutta la diocese Ma possiamo dirlo In termini Tutto il tiguglio Assolutamente Bene Allora Da Bustartizio è tutto Per questa bella giornata di sport Organizzata appunto Dall'ufficio sport Della diocese di Chiaveri Abbiamo visto Una partita di serie A1 Di pallavolo Tra Milano e Perugia Perugia Che prima della classe Ha perso Qua a Milano Contro Milano Che era in gioco Il quarto e quinto posto Dunque Milano è quarto Mi sembra di no D'aver capito Quinta perché Modena Ha vinto C'è stato un altro risultato Per Modena Che è andata Ok Perché prima il presidente Diceva Speriamo nel quarto posto Allora Magrardo la vittoria Non è servito Per andare al quarto posto Bene È tutto Ci salutiamo E ci rivedremo E ci rivedremo In un'altra giornata Così sportiva E ci rivedremo E ci rivedremo Si può dare di più Perché dentro di noi Si può dare di più Senza essere eroi Come pare Non so Non lo sai Anche tu Ma dicendo E ci rivedremo Si può dare di più Non so Non so Grazie a tutti.